RR e la sua trasmissione alla Commissione Europea, cosa che avverrà poi oggi pomeriggio anche qui al Senato. Allora, ringrazio voi, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti perché mi viene data una occasione per rappresentare una piccola grande innovazione all'interno di un disegno più complessivo che tra l'altro sarà contenuto poi nel PNRR. Allora, vi racconto com'è nata la genesi di questo articolo 10 che noi abbiamo agganciato al decreto Covid che avete in conversione, mi pare, qui al Senato. Da più parti d'Italia mi venivano richieste, soprattutto da parte delle amministrazioni locali, ma non solo, di una situazione di impasse circa la celebrazione dei concorsi banditi in ragione dei vincoli posti dal CTS, dal Comitato Tecnico Scientifico, riguardo alla pandemia e allo stato di emergenza perché non potevano celebrarsi i concorsi in ragione delle impossibilità di mantenere le regole di distanziamento ed altro che precedevano alla situazione pandemica. E quindi sostanzialmente nell'arco di un anno si erano banditi, no, si erano celebrati in Italia circa 20 mila concorsi, un numero di concorsi tale da celebrare e consegnare 20 mila posti laddove il turnover e il fisiologico ricambio ne prevedeva 150-160 mila. Quindi tutte le amministrazioni locali, ma non solo amministratori locali, anche amministratori centrali, erano in stato di estrema sofferenza, senza tra l'altro vedere un esito, una via d'uscita, perché permanendo lo stato di emergenza che viene, come voi ben sapete, prorogato di trimestre o quadrimestre in quadrimestre, veniva anche prorogato il blocco dei concorsi. Ad essere più colpiti erano le amministrazioni locali. Il grido più forte veniva dalla sindaca Raggi, per esempio, che aveva bandito concorsi per un numero rilevantissimo di posti, ma soprattutto con un numero enorme di candidati. Quindi non solo i posti che non venivano assegnati, ma la quantità di candidati che erano sostanzialmente tenuti in stato di sospensione. Allora, vi racconto tutto l'iter. Ho preso la decisione di, intanto, di compulsare il Comitato Tecnico Scientifico, per dire a quali condizioni il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe consentito la celebrazione dei concorsi. E dopo una lunga discussione e approfondimento abbiamo individuato una possibilità di superamento dei vincoli dei 30. E la possibilità è stata quella, che tra l'altro poi ci ha dato anche l'indicazione per come procedere, che è stata quella di, intanto, di spezzettare la celebrazione e di realizzarla in più sedi di natura provinciale in luoghi di grandi dimensioni. Fatta, vi dico subito, gli esiti delle ricerche, abbiamo subito pensato al fiere, al sistema fieristico italiano, anche per una ragione opportunistica, che siccome da tanto tempo non battono un chiodo dal punto di vista economico, visto che le fiere sono bloccate, era un modo per farle riaprire e lavorare. Le fiere poi hanno normalmente una base informatica, una piattaforma informatica funzionante ed efficiente, e hanno anche personale che avrebbe potuto accompagnare questo processo. Per cui abbiamo proposto al CTS, vanno bene le fiere? Sì. Le fiere hanno sedi certamente in quasi tutti i capoluoghi di provincia e quindi avremmo in questa maniera ottemperato anche allo spacchettamento dei concorsi in tutti i capoluoghi di provincia, in tutte le sedi fieristiche, in tutti i volumi delle sedi fieristiche, perché c'era bisogno non solo di metri quadrati, ma anche di metri cubi. In più abbiamo compulsato, richiesto alla protezione civile di governare le fasi di accesso e le fasi di uscita, però sempre il Comitato Tecnico Scientifico ci ha detto sì, però i concorsi devono durare poco, cioè dovete stare nei luoghi, devono stare i concorrenti nei luoghi distanziati, volumi, spazi, entrate distanziate con il tampone fatto e così via, però devono durare poco, non ci possono essere concorsi della durata dei 3, 4, 5, 6, 7 ore. Abbiamo fatto buon viso cattivo gioco e abbiamo accettato tutto pur di sbloccare i concorsi. A questo punto c'è venuto anche l'idea di dire ma perché non utilizziamo queste prescrizioni che sono certamente legate allo stato di emergenza, ma per dare una sorta di modernizzazione anche al modo di fare i concorsi. E la primissima cosa a cui abbiamo pensato ovviamente è che i concorsi dovevano avvenire tutti in forma digitale. Io da vecchio professore mi sono sempre addolorato e rammaricato che i concorsi si facessero, che i concorsi, che prove d'esame, concorsi, eccetera, si facessero da casa. Io ho usato la formula da casa in mutande per sorridere un po', ma di una modalità non consona. Io penso solo ai ragazzi dell'università che addirittura si sono laureati da casa ed è un dolore per chi ricorda ancora quel momento di tutti noi, che è stato un momento per le famiglie, per i ragazzi, per i docenti, un momento importante farlo da remoto. Io abbiamo pensato allora che concorsi si dovessero ottenere in maniera digitale, dall'inizio fino alla fine della graduatoria, in maniera digitale, in luoghi pubblici, istituzionali o classificati come tali, nel caso dei concorsi degli enti locali, ma anche di altri, l'impianto fieristico e se erano concorsi di altro tipo, in altre sedi di Aule Magne, di questo o quel ministero e così via, se erano banditi ovviamente da ministeri. E così ci è avvenuto un modello. Allora, concorsi da svolgersi solo in maniera digitale. Ed è la riflessione che ha avuto ampio consenso, ci porta dall'ottocento alla modernità, cioè superamento della carta e della penna in tutti i concorsi pubblici. questo come prima grande prescrizione. Secondo, non da remoto e questo anche a regime, ovviamente, perché da remoto si possono fare altre cose, smart walking e così via, però una prova che ha una sua necessità di ufficialità, di controllo e così via, formule, proctoring o altro mi hanno sempre fatto produrre riflessioni negative. E quindi in presenza in luoghi deputati, ma digitali. Quindi dalla domanda del concorso fino alla graduatoria. In tempi brevi, e cioè superare anche l'ottocentesca e forse novecentesca prassi delle cinque ore, sei ore, sette ore, otto ore, ma ridurre tutto in un'ora con metodologie moderne che vengono utilizzate in tutta Europa, in tutto il mondo, quelle dei domande a risposta multipla, variamente sedimentate, variamente collocate all'interno dei programmi o di tirocini o di studio, il tutto con una prova scritta e un'eventuale prova orale. L'eventuale poi ha una sua ragione, ha una sua ragione, l'eventuale prova orale è collocata anche in videoconferenza rispetto alla commissione d'esame. Perché mentre la prova scritta può essere fatta con una commissione d'esame in presenze limitate o con controllo limitato, la prova orale deve avere la commissione nella sua pienezza e quindi con il meccanismo della teleconferenza. Quindi in presenza nel luogo istituzionale, online per quanto riguarda la prova scritta e l'eventuale prova orale in videoconferenza. E fin qua, come dire, questa è la grande novità. Abbiamo avuto l'ok di tutti e abbiamo cominciato ad approntare il testo del decreto, che aveva proprio questa finalità, cioè sbloccare i concorsi. Dopodiché abbiamo dovuto considerare una serie di tipologie di casisti che vi faccio un po' annoiare, ma come dire, purtroppo il nostro mestiere è fatto anche di particolari. Allora c'erano i concorsi banditi che avevano espletato qualche prova ma che hanno stati bloccati in itinere. Allora per questi concorsi non si poteva far nulla, ma dovevano essere sbloccati dal punto di vista della sicurezza sanitaria, però dovevano continuare con la metodologia, perché tu non puoi aver fatto una prova in una modalità e l'altra in un'altra modalità. E quindi quelli terminavano una volta ottemperate alle vincoli di sicurezza sanitaria, continuavano. E quindi era uno sblocco e basta, senza innovazioni di altro tipo. E quindi la prima casistica la togliamo. Poi concorsi banditi ma per i quali non era stata espletata nessuna prova e quindi che potevano usufruire della nuova metodologia. Quindi sbloccati, ma che potevano usufruire della metodologia digitale. Però qui entrano le novità. Vado subito al solo. Le novità erano la semplificazione. La semplificazione era sostanzialmente la previsione di una prova scritta e di un'eventuale prova orale da ehm confermare o meno o nel bando che veniva riaperto oppure se era già prevista solo una prova mantenere il bando così com'era. Poi vi farò degli esempi concreti per cui si capisce tutto. Poi i nuovi concorsi che non erano stati banditi però che erano nell'intenzione di essere banditi che a quel punto dovevano essere banditi eh totalmente secondo modalità innovative previste previste dal decreto. Questa era la tipologia. Ultima tipologia a regime che tutti ci auspichiamo e cioè quando finirà lo stato di emergenza eh e non ci sarà più il vincolo sanitario eh abbiamo riflettuto su mantenere l'innovazione e cioè online eh in luoghi deputati ma a quel punto non più con i vincoli spazio spaziali eccetera mantenendo invece questo sì la semplificazione dello stesso perché ci eravamo resi conto che non era possibile continuare con una prassi per cui un concorso durava quattro cinque anni e per cui l'accumulo portava al gigantismo e il gigantismo portava a una cosa e adesso entro in media stress a una cosa che a me vecchio professore universitario dopo quarant'anni di al che vuoi dire allora io la considero patologia dei quiz matematico logico mnemonici eh lo dico personalmente eh io non avrei fatto nessuna nessuna carriera se avessi dovuto rispondere a quei quiz di quel tipo lì perché le mie sinapsi le mie non sono adatte a quel tipo di mentre eh so fare altre cose so studiare so approfondire so capire ma quel tipo di 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 quiz eh non fa parte e penso che non sia legittimo sottoporre questo tipo a questo tipo di prove che però si erano rese necessarie da un certo momento in poi per ridurre la massa dei 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 concorrenti e avevano portato tra l'altro a un a un processo eh di 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 formazione e cioè i ragazzi non studiavano più le materie proprie delle delle loro specializzazioni della loro formazione ma studiavano semplicemente i quiz li mandavano a memoria eh acquisendo opportune apposite banche dati pubblicate e tutto il loro tempo dedicato al concorso non era per approfondire studiare materie e così via ma era per imparare a memoria dei quiz una sorta di interno allotto più ne imparavi a memoria siccome si sapeva che le domande venivano estratte da una sorta di banca dati tu avevi una percentuale se ne imparavi bene a memoria ti allenavi eccetera il che per carità non è mica disdicevole solo che non ti lasciava nulla poi dal punto di vista della cultura della formazione dell'applicazione dell'approfondimento eccetera era semplicemente eh noi se dovessimo fare tutti nuovamente l'esame della patente verremmo tutti bocciati secondo me ma eh anche dopo vent'anni trent'anni quarant'anni di di guida e di esperienza io mi ricordo l'ossessione che avevo a quei tempi e va bene chiusa questa parentesi quindi ci siamo detti abbandoniamo ehm i quiz che non sono disdicevoli in sé ma che sono figli di un'emergenza non l'emergenza sanitaria ma dell'emergenza quantitativa che a sua volta era figlia eh di una farraginosità burocratico amministrativa e così via vediamo se riusciamo con questa strada grazie all'emergenza all'emergenza covid e i vincoli che ci ha posto all'emergenza covid a cambiare paradigma quindi intanto li facciamo tutti online a partire dalla domanda poi eh li facciamo semplificati li facciamo con durata eh ridotta e e eliminiamo i quiz selettivi eh e io da vecchio professore mi scuso ma come dire eh l'ho vista come una un ritorno a respirare buone pratiche buone prassi eh piuttosto che perché pensare a dei giovani che passano le loro giornate a mandare a memoria dei quiz logico matematici eccetera eccetera mi ripugnava. Allora detto questo però poi come abbiamo abbiamo proceduto poi e con qualche riflessione poi aggiuntiva ehm abbiamo detto eh naturalmente eh ci sono le domande c'è il bando anzi partiamo dal bando c'è il bando il bando deve specificare ovviamente la tipologia dei posti messi a concorso il numero della tipologia e le modalità. Eh sulla base del bando eh il candidato eh formula una propria domanda una propria candidatura online quindi un apposito con un apposito sito un'apposita piattaforma naturalmente rispondendo a a una sorta di di standard di di entry form di 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 schema con con tutti i dati eccetera e con tutti i suoi tra virgolette e qui comincia eh andarcene con i suoi titoli. Cioè chi è? Chi è? Cosa ha fatto? Che titoli di studio ha? E eccetera eccetera eccetera. Naturalmente il candidato tende a metterci tutti i titoli ovviamente acquisiti. Sia titoli eh di eh legalmente riconosciuti se ha se ha un diploma, una laurea, un master, un PhD e quant'altro sia se ha delle esperienze di lavoro perché anche queste sono ovviamente in base alla legge e così via titoli. Dopodiché eh si forma un bivio tutte vi ricostruisco come abbiamo ragionato e si forma il bivio. Il bivio è sono ammessi tutti i candidati eh che hanno riempito la scheda di partecipazione al concorso oppure già questa prima fase visto che non c'è la prova selettiva eh via quiz ehm può essere ehm un metodo di filtraggio rispetto rispetto al concorso vero e proprio cioè alla prova scritta ed eventualmente orale e qui noi abbiamo pensato che ci dovesse anche qui essere un bivio se il posto messo a concorso è di tipo basico serve una laurea in medicina ehm e possono partecipare tutti quelli che hanno una laurea in medicina e quindi nessun filtraggio per la prova successiva cioè la prova scelta. Se però il posto messo a concorso è eh per un medico eh con specializzazione in eh anestesia piuttosto che di pronto soccorso magari un comune eh di mare eh per prestare eh soccorso i bagnanti che o annegano o non annegano affogano è chiaro che se il il posto messo a concorso è finalizzato a una specializzazione il titolo diventa filtro per ammettere solo quelli che hanno quella specializzazione. Poi vi faccio degli esempi per cui è tutto è tutto più semplice. Secondo passaggio e se uno mi mette anche l'esperienza. L'esperienza può essere considerata come eh filtro potenziale? Abbiamo discusso, discusso, discusso e abbiamo anche in sede di consiglio dei ministri detto che l'esperienza eh poteva essere elemento di punteggio però dopo alla fine non di filtro. Io voglio un bel medico con specializzazione in eh pronto soccorso e e non non voglio girecologi, non voglio eh eh chirurghi ma voglio solo specializzazione in pronto soccorso. Allora tutti quelli che hanno specializzazione in pronto soccorso passano alla prova alla prova scritta e eventuale prova orale alla fine valutazione in sede di valutazione finale allora sì si mette insieme eh i titoli eh legalmente posseduti l'esito della prova scritta e dell'eventuale orale e il punteggio della esperienza. Ho fatto il pronto soccorso eh se il comune di Rimini chiede bandisce quel posto al comune di Cattolica per cinque anni quindi questo evidentemente avrà diritto secondo quanto prevede le legge a una sorta di punteggio. Quanto punteggio, titoli ed esperienza? Età previsto dalla legge, non più del trenta per cento e e quindi noi non l'abbiamo scritto forse varrà la pena di scriverlo ma è è già nella normativa nella normativa esistente. Ehm che altro dire? Noi forse e qui la mia assoluta disponibilità ad ascoltare ovviamente le vostre opinioni opinioni del relatore, le opinioni di tutti i colleghi eh se questo tipo di logica che noi avevamo come governo e cioè di mettere eh insieme la proporzionalità eh forse la corrispondenza tra tipologia del posto messo al concorso con l'uso dei titoli finalizzati a rispondere a quella tipologia per cui se la tipologia è una tipologia del posto messo al concorso di tipo generico per cui serve una laurea purché sia senza specializzazione questo non dava origine ovviamente a nessun possibile filtraggio rispetto al passare alle proprie seguenti se invece la tipologia dei posti messi al concorso aveva una sua specializzazione una sua caratterizzazione è chiaro che il titolo posseduto o non posseduto poteva dare origine al passaggio successivo. Fin qui la teoria. Fatemi fare degli esempi concreti per cui allora capiamo tutti ma capiamo anche noi come dire se c'è qualcosa da da migliorare perché questo è il ragionamento vi ho descritto tutto l'iter tutto l'iter se eh eh concorso eh che poi eh per contratti a termine abbiate pazienza ma non tutto corrisponde ma lo dico concorso duemila ottocento ehm concorso coesione eh per il sud eh risorse europee eh bando e risorse date dal governo precedente noi abbiamo avuto solo il merito l'onere e l'onore di eh come dire predisporre il bando e di eh definire come dire la tempistica e le modalità innovative. Questi posti messi a concorso duemila e otto non sono posti generici ma sono posti specialistici perché sono specialisti per gli enti locali finalizzati era previdente il bando eh finalizzati anche alla gestione del PNRR quindi ci volevano informatici eh ingegneri gestionali eh ingegneri e così via quindi eh segmenti tra l'altro già predefiniti noi non abbiamo toccato assolutamente niente come la distribuzione territoriale e così via eh c'erano cinque categorie cinque categorie di specialisti per i quali evidentemente non basava solo una laurea ma c'era bisogno della laurea e una specializzazione. Allora questo tipo di concorso che si è concluso per cui la il le domande si sono concluse 21 aprile con questi numeri di risultato. Allora domande eh ecco ottantunmila centocinquanta candidati quasi il trenta per cento a meno di trent'anni il cinquantacinque per cento è donna. Le eh tipologie sono eh ecco eh tecnico ingegneristico c'è un profilo tecnico ingegneristico esperti di gestione e rendicontazione e controllo progettisti animatori territoriali innovazione sociale amministrativo giuridici e e data analyst eh specializzazioni. Naturalmente eh di tutti gli ottantunmila e centocinquanta eh ciascuno ha scelto il proprio segmento di eh specializzazione e eh la eh filtraggio avverrà segmento per segmento candidato per candidato per cui gli ottantunmila centocinquanta si ridurranno a circa diecimila in ragione del matching della corrispondenza al eh segmento e dei titoli per quel segmento ci possono essere anche degli errori spero che si che si che si sia un po' flessibili se uno è un ingegnere magari sbaglia segmento eh se è possibile fare però normalmente se è un ingegnere partecipa a quel segmento e verrà valutato rispetto a quel segmento se il suo titolo è un titolo come dire eh adatto e convergente. Questo concorso che si è eh come dire la cui prima fase si è conclusa ottantunmila centocinquanta la prossima ci sarà lo screening con questo criterio dei titoli quindi nessuno ha protestato dicendo ah questo tipo di concorso va contro i giovani che non hanno eh la specializzazione in eh eh ingegneria e e eccetera eccetera perché eh le regole del gioco era quella si cercavano quei profili e su quei profili si sta delizando il concorso. Il concorso tra l'altro partirà per la con una prova scritta il 8-9 di giugno 8-9 di giugno poi dopo l'8-9 di giugno ci sarà la correzione della prova scritta verranno valutati tutti i titoli e l'esperienza e si formerà la graduatoria e dall'inizio alla fine saranno passati cento giorni. Se non passano cento giorni io ammazzo ammazzo il mio direttore perché questo era un obiettivo anche un po' come dire un po' parossistico se vogliamo però simbolico perché per dimostrare che in cento giorni si può fare un bel concorso fatto seriamente con un bel bando tutto online con queste caratteristiche. Nessun problema di eticità del 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 concorso stesso nel senso che e questo è un esempio che usa la nuova norma l'articolo 10 in tutte le sue potenzialità e consegnerà a fine metà luglio 2800 nella speranza che vengono coperti tra l'altro tutti i posti perché per taluni segmenti purtroppo c'era carenza di candidati soprattutto quelli tecnico e informatici purtroppo questo sarà uno dei problemi che dovremmo tutti dicono tutti gli informatici informatici ma poi informatici non ci sono ma questa è una parentesi questo è un concorso secondo concorso di esempio è quello della Roma raggi disperata nostra brava sindaca disperata l'abbiamo sbroccato hanno fatto riaperto il bando e l'anno 23 aprile hanno riaperto il bando 3 concorsi per un totale di 1512 unità di personale a tempo indeterminato quell'altro invece era a tempo determinato questo invece proprio concorso concorso a tempo indeterminato cioè si entra a fare i dipendenti pubblici nel comune di Roma 1512 unità la caratteristica era che i posti messi a concorso sono di classe D e C vale a dire impiegati comuni impiegati comuni avranno tutti ovviamente i candidati presentati 190 mila domande 190 mila candidati avranno presentato tutte le titoli a disposizione però senza la possibilità di fare nessuna selezione perché se il concorso messo il posto messo concorso è di tipo basic tu non puoi dire io ho la laurea a Cambridge e il PhD a Cambridge e quindi passo io e non passa quello che ha solo la laurea normale perché il posto messo a concorso è basico di impiegato e quindi basta il titolo di studio basico per quel posto basico chiaro questo quindi eh d'accordo con la sindaca Raggi ha riaperto i termini riaperti i termini eh se ne sono aggiunti altri tremila mi pare con la riapertura con le con la riapertura dei termini si celebrerà la prova scritta eh quando la partita dal 7 giugno fino a lì purtroppo purtroppo bisognerà fare tutti i 190 mila o meglio quelli che decideranno comunque di presentarsi di solito un po' più della metà e così via è già previsto dove come quando la la sindaca ha scelto i teatri mi pare è la fiera di Roma e eccetera eccetera e ci sarà eh però un'ora anzi cinquanta minuti durata con eh le risposte multiple eh con le piattaforme online con tutti i controlli di di sicurezza sanitaria e così via e questo come dire è una forma intermedia di innovazione certamente l'online certamente lo sblocco certamente la sicurezza eh però ovviamente nessun filtraggio perché rispetto al bando di concorso questo non era previsto e prevedibile perché i posti messi a concorso erano di impiegato standard non di di ecco e da questo punto di vista naturalmente poi una volta fatta la prova scritta si passa alla valutazione finale e dentro la valutazione finale ci sono tornano titoli ed esperienza non più del trenta per cento come peso e torniamo nella casistica ultimo che devo dire ve lo racconto ma si è materializzato ieri con la brava sindaco di 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 Torino dove con ehm risorse europee ehm risorse europee eh per eh assunzioni di giovani questi sono tornano ad essere contratti a termine contratti a termine eh con il modello della formazione lavoro anche qui lo viene la logica la formazione lavoro non può prevedere alcun filtraggio rispetto ai titoli se è formazione e lavoro chiaramente ma se eh i posti messi a concorso sono per diplomati o laureati tutti i diplomati tutti i laureati non ci può essere nessun filtraggio punto ehm a me piace molto la formazione lavoro perché eh come dire completa il circuito dalle dal dal basic eh fino ai flyers come come si chiama eccetera se ho ancora cinque minuti presidente eh eh voglio dire cosa è previsto per il PNRR perché questo è come dire sicrebo stantibus vale a dire eh se non ci fosse se non avessimo votato oggi se non voterete oggi eh a prescindere dai duecento e e quaranta quarantuno miliardi e nuove reclutamenti eccetera eccetera previsti dal PNRR questo è il vecchio fabbisogno il vecchio turnover le vecchie domande con ehm cosa succederà invece con il PNRR con il PNRR noi abbiamo una quantità enorme di progetti una quantità enorme di finanziamenti e una quantità enorme di fabbisogni incrementali rispetto al turnover standard perché noi fino a qui comune di Roma Torino abbiamo parlato di fabbisogni eh di turnover standard con nel bilanci eh dei comuni poi a regime e cose via invece il PNRR prevede una quantità enorme di progetti da finanziare e anche qui un altro bivio o si sceglie di avalerci delle società di consulenza e che io non vedo di buon occhio nel senso non vedo di buon occhio non le società di consulenza che è vero che vivono nel mercato sono imprese come tutte le altre ma che un'amministrazione sia talmente depauperata di capitale umano che dipenda in toto dalle società di consulenza e che non abbia neanche la capacità di interagire con le società di consulenza no? E questa è la condizione peggiore di tutti perché vuol dire che tu sei in balia delle società di consulenza allora quello che noi vorremmo fare e questo lo sto scrivendo in questi giorni è costruire un percorso di reclutamento un portale di reclutamento per il PNRR anche alla luce di questa esperienza dell'articolo dell'articolo 10 per dotare tutte le amministrazioni a livello centrale a livello regionale provinciale e comunale con contratti a termine della durata 3 più 2 cioè 5 cioè gli anni del PNRR di figure da quelle basiche per questo ho detto mi è piaciuta il percorso della sindacat pendino dal formazione lavoro perché mi serve anche la formazione lavoro a ingegneri informatici ingegneri dei ponti agli ingegneri gestionali eccetera per avere personale incorporato negli enti che lanciano i progetti PNRR che o eh direttamente o messi o messi a bando per dotare di capitale umano gli enti pubblici per essere in grado semmai di eh selezionare interroguire anche consulenti esterni eh all'amministrazione però avendo una capitale umano a disposizione all'interno dell'amministrazione e anche qui bisogna fare presto nel senso che non possiamo metterci quattro anni cinque anni per bandire un concorso per il PNRR perché nel frattempo PNRR è già finito e quindi da questo punto di vista usiamo l'esperienza covid l'esperienza articolo dieci cioè eh selezioni con addirittura eh modalità ancor più innovative. Faccio un esempio ehm chi frequenta l'università sa che l'università da un certo momento in poi produce dottorati i e i nostri piecidi ehm normalmente ma in maniera eh che sono la premessa ma non doveva essere così la premessa per la carriera accademica solo come tutti sappiamo la carriera accademica è molto ristretta è molto è molto limitata tanti invece l'eccesso di offerta di dottorati eh tra l'altro che implicano costi rilevanti per 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 lo stato il risultato che abbiamo tanti dottorati pochi eh percorsi di carriera accademica e molti dottorati o disoccupati o eh non occupati eh al livello del capitale umano che loro nel frattempo hanno accumulato. Allora una riflessione che avevamo fatto anche assieme al ministro dell'università era quella per questa gobba di investimenti dei cinque anni perché non fare delle convenzioni, non ragionare insieme all'università per avere i migliori dottorati eh nelle materie ovviamente tecnico scientifiche quelle quelle necessarie in maniera tale da dare uno sbocco ai dottorati ma non solo gli ordini professionali ma non solo eh pensiamo alle piattaforme quelle più efficienti LinkedIn ed altro il tutto per avere eh nuvole di eh specializzati nuvole di eh eh giovani ma non solo giovani eh in grado di mostrare una loro disponibilità e specializzazione la mettere a disposizione e e attraverso colloqui valutativi molto veloci eh anche perché un ingegnere che è già iscritto a un albo degli ingegneri che ha già fatto un esame di stato in genere cosa gli fai fare? Un'altra prova eh fai una selezione fai un colloquio e sulla base della selezione del colloquio eh come dire eh fai un contratto a termine per la gestione per quell'ente del progetto PNR. Questo è de jure condendo cioè come sarà il quadro che ci però consente ancora una volta di riarticolare il mare magnum dei concorsi utilizzando sempre l'online il digitale le prove eh 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 scritte eh come dire però eh via piattaforma piattaforma online abbiamo qualche difficoltà per esempio di tipo culturale i prefetti vogliono lo dico a bassa voce ancora cinque ore e come dovranno farsene una ragione anche loro però poi eh una serie di 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 aree della pubblica amministrazione hanno una loro specificità una loro esenzione per cui però una volta che la cultura della digitalizzazione della transizione digitale del concorso eh come dire che nasce nativo digitale dalla dalla domanda dalla partecipazione al bando alla eh partecipazione al bando all'analisi dei delle prime richieste di di dei dei candidati fino alle prove fino all'esito finale fino alla graduatoria una volta che questo impianto entra nella nostra cultura e soprattutto dimostra la sua efficienza avendo dall'inizio alla fine una necessità temporale di tre quattro mesi beh vi rendete conto che questo è una una rivoluzione ed essendo una rivoluzione svuota le sacche di accumulo pensate anche alla scuola pensate ai vari mondi possibili e dà certezze siccome è l'ultima cosa che dico scusami presidente siccome io intendo dato il momento storico eh togliere tutti i vincoli eh di tipo quantitativo al al turnover perché noi purtroppo abbiamo controllato i costi della pubblica amministrazione facendo la peggior cosa possibile per un'organizzazione che è quella di bloccare il turnover in tutto in parte perché quando se tu vuoi uccidere un'azienda blocchi il turnover di quell'azienda e gli togli il capitale umano nel tempo e quell'azienda poi muore ecco il nostro paese gli ultimi dieci anni ha vissuto con blocchi eh di turnover forse inevitabili in ragione dei costi della massa salariare eh delle delle crisi economiche del sangue sudore lacrime abbiamo vissuto tutti in questo periodo però il risultato ecco il blocco del turnover la pubblica amministrazione si è impoverita si è appiattita si è invecchiata e e siamo a livello di in un ritorno un po' come la demografia eh la demografia eh è il parallelo a in parallelo uno specchio della pubblica amministrazione allora io intendo togliere tutti i blocchi del turnover in maniera selettiva eh in maniera tale che ci possa tornare una fisiologia della della ricopertura dei posti dove la serve con i fabbisogni così utilizzando questi nuove metodologie inevitabili eh nella transizione digitale inevitabili in maniera tale da dare alla pubblica amministrazione come dire il capitale umano di cui ha bisogno questo è quanto io ho letto tutte le problemiche tutto il dibattito eh al al intorno di questo mi scuso se forse le formulazioni delle norme eh non sono state sufficientemente chiare però io vi ho ricostruito l'intento eh non era certamente quello di non io ho insegnato ancora all'università io sono figlio di un venditore ambulante il mio ascensore sociale me lo sono preso da solo e penso che tutti abbiano diritto di prendersi i propri ascensori sociali e quindi lungi da me il pensare che i giovani possono essere come dire discriminati è chiaro che eh eh formazione investimento in capitale umano eh investimento nelle proprie specializzazioni così devono essere tutti elementi di valutazione però occorre dare una chance a tutti naturalmente la chance a tutti non può essere un terno all'otto che io mi imparo tre quiz e partecipo a un concorso eh a cui partecipano poi specialisti eh ognuno deve ovviamente fare un suo percorso di di accesso ai concorsi in ragione dei titoli posseduti senza discriminazioni di alcun tipo soprattutto senza discriminazioni odiose che facciano riferimento all'età eh o alla dotazione basica di 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 titoli ovviamente per queste dotazioni basiche di titoli ci sono i posti eh relativi e e questo è il percorso io credo che la più grande innovazione eh di di questo articolo dieci di quello che verrà è proprio di farli i concorsi cioè di farli non di prometterli non di accumularli ma di farli perché se un'amministrazione fa concorsi due tre volte l'anno per i propri fabbisogni e così via si 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 costruisce una fisiologia assolutamente efficiente tutti hanno le giuste aspettative e e nessuno pensa che è l'ultimo concorso l'ultimo treno per Yuma eh l'ultima occasione per cui tutti si ammassano e così via no io aspetto il concorso dell'autunno perché sono più eh preparato in autunno ma non devo farlo per forza perché se no per cinque anni poi non posso far nulla quindi questa è la più grande novità fare i concorsi in tre mesi farli seri farli bene farli eh senza manipolazioni eh farli oggettivamente avendo la consapevolezza che saranno selezionati i migliori se si fanno ogni tre mesi in un'amministrazione si programma per il proprio ricambio due tre cicli concorsuali l'anno può dare i messaggi eh chiari netti al alla ai ragazzi ai giovani a chi vuole partecipare e per la loro formazione per la loro per la loro preparazione ecco mi scuso se sono stato lungo vi ho raccontato tutto l'iter sono a disposizione per quanto riguarda suggerimenti miglioramenti eh eh come dire è una materia estremamente tratto delicata complessa e così via eh io non amo il todos caballeros io non amo eh l'open legis non amo nulla di tutto questo nel senso che penso che una sana eh eh merito rispetto agli sforzi fatti agli studi effettuati e così via meriti la giusta la giusta ricompensa tutto qua grazie presidente mi scuso ancora se sono stato lungo grazie ministro eh molto utile questo intervento eh Bressa grazie a tutti